ciao a tutti buona domenica e domenica che che sto passando leggendo leggendo le mail che mi avete inviato le segnalazioni presso redazione e chiocciola robigiusti puntiti adesso la iena blu perché mi sono arrivate una miriade e miriade di informazioni di malori di questo weekend veramente una cosa una cosa assurda che non ha che non ha una spiegazione salvo che quello che pensiamo tutti e noi ne ho riassunti 4 4 che fanno capire che la situazione trasversale che tutti stanno subendo questa cosa dei malori improvvisi e da da giovani da giovani giovani di 30 anni 32 anni che giocano a pad e le muoiono e fino alle comandanti delle dei carabinieri fino a figli di politici importanti che che in queste ultime ore hanno hanno subito il malore improvviso morendo morendo e sconvolgendo le persone familiari vicino a loro e sto guardando questo qua di matteo si e il titolo è di fan page ed è di ieri pomeriggio malore durante una partita di pad del matteo si accascia e muore improvvisamente a 32 anni la terribere in attesa notizia sconvolto la campagna da cui circa un anno era convolato a nozze e chiaramente ha sconvolto la famiglia e i tantissimi amici ragazzo giovanissimo ve lo faccio vedere ve lo faccio vedere è lui ragazzo giovanissimo e questa è la notizia di fan page quindi non parlo di notizie improvvisate ma veramente di notizie che quotidianamente vengono messe sui sui nostri giornali nazionali sorrise e risate tra amici durante una partita di pad del organizzata per trascorrere la serata poi un improvviso malore e lui che si accascia a terra e sul campetto perdendo i sensi per poi non non risvegliarsi più così è morto improvvisamente un giovane assicuratore abruzzese residente a lanciano si chiamava matteo stante e un altro giovanissimo un altro giovanissimo che muore di treviso un treviso di 39 anni e la notizia di treviso today treviso today ed è la notizia del 22 ottobre alle 9 40 quindi anche questa nel weekend ieri stroncato da malore a roma muore treviso di 39 anni e si chiamava enrico disarò di monte livenza era figlio della nota famiglia di una nottissima famiglia di ristoratori da qualche giorno la sua famiglia non riusciva più a mettersi in contatto con lui i carabinieri ne hanno scoperto il corpo senza vita del giovane anche in questo caso malore improvviso anche in questo caso autopsia che cercherà di chiarire la situazione il perché di questo malore improvviso e vi faccio vedere la sua foto il quotidiano è treviso today un altro giovane un altro giovane morto per malore improvviso comandante dei carabinieri questa è la notizia di oggi di questa mattina roma today ore 9 e 34 di questa mattina malore in mare muore il comandante dei carabinieri romano il colonnello gabriele manborre a capo della sezione provinciale dell'arma dei carabinieri di crotone e 2 è morto durante un'immersione nello ionio anche lui la tragedia dicono per per un malore per un malore e in mare questa volta in mare e quindi ennesima ennesima morte è già successo ad altri comandanti dei carabinieri in questo periodo e anche uno nella zona di modena e questa volta purtroppo è capitato a lui non era una persona anziana perché manborre aveva 49 anni guardate 49 anni quindi non parliamo di un parliamo di uno sportivo sub quindi abituato a fare immersioni 49 anni e anche lui se n'è andato ultime notizia dell'ultime dell'ultime ore questa di di poche di po di po di due ore fa e da fanpage.it del 23 ottobre 2022 morto il figlio di achille occhetto vi ricorderete archille occhetto il è stato il guarda vi faccio vedere chi l'occhetto quando era nel pd lui era segretario del partito democratico sconvolto un achille occhetto sconvolto e morto e è morto il suo figlio mi dispiace io ho incrociato una volta incrociai anni fa alla festa dell'unità a chile occhetto era una persona sicuramente con una cultura importante e una persona che alla fine aveva le sue idee chiaramente di sinistra è sempre stato di vera sinistra e era una brava persona mi dispiace per lui perché è sconvolto e il titolo della fanpage dice morto il figlio di achille occhetto malcom stroncato da un infarto sono impietrito queste le parole di achille occhetto quindi come vedete è una cosa trasversale non pensiamo quindi questo fa capire che che la cosa è in attesa a tutti i malori improvvisi stanno venendo trasversalmente a tutti non esistono bianchi neri giardi belli verdi blu esiste esiste una situazione grave e la giorgia meloni ha fatto una promessa a giorgia meloni ha chiesto una ha preteso ha messo nel programma una commissione d'inchiesta di istituire una commissione d'inchiesta per andare a capire cosa stia realmente succedendo quindi questo è un invito a giorgia meloni vi chiederei veramente di condividere la cosa perché giorgia meloni deve mantenere la promessa e andare a fare prima possibile una commissione d'inchiesta perché nessun tg ne parla dice angela colucci stanno tenendo tutto nascosto in verità anni in verità non è evidentemente non vogliono parlarne tg e come hanno sospeso la trasmissione di di mario giordano ci saranno delle motivazioni la cosa è certa e le malori stanno capitando a tutti e tutti trasversalmente quindi purtroppo è inevitabile che arriveranno a parlarne per forza perché non è una più una cosa nascondibile stanno capito capitando a personaggi anche importanti quindi questo dimostra che purtroppo veramente una condizione che è inaspettata per tutti mi dispiace per queste persone le achille achillo chetto è impietrito le sue parole la proprio l'annuncio l'ha fatto lui in un post di facebook cioè lo stesso annuncio della morte del figlio è stato di malcom è stata fatta da achillo chetto in un post su facebook quindi non sto parlando di di una notizia che robine parli ne parli tu questo è il post che ha fatto su facebook achillo chetto guardate tre ore fa mio figlio malcom è stato stroncato da un infarto a las palmas lo comunico impietrito e con indicibile dolore ai suoi amici con questa immagine di vita achillo chetto achillo chetto tre ore fa mi dispiace condoglianze alla famiglia e giorgia menoni te lo chiedo come da cittadino per favore per favore fai velocemente una commissione d'inchiesta cerchiamo di capire il perché di tutte queste morti perché c'è qualcosa che non va e sono troppe pensate che ne saranno arrivate cento di segnalazioni cento non non si contano segnalazioni di questo weekend quelle commesso sono e le più sono le più tanto ciao serse questa mattina poi serse con patrick serse ne abbiamo appunto parlato a supermercato all'ipermercato e sono queste qua sono le più emblematiche c'è c'è figlio di un grosso politico achillo chetto che grande rispetto per achillo chetto e il un comandante dei carabinieri un colonnello dei carabinieri un giovane imprenditore di 32 anni che giocava a padel un altro figlio di ristoratori noti molto importante che non lo trovavano e l'hanno trovato morto in casa ormai ormai è inevitabile ed è inutile far finta di non vedere di non vedere far finta di non vedere di non sentire e non c'è motivo per far finta di non vedere di non sentire non è una cosa normale e che qualcuno mi dica il contrario con dei dati con dei dati alla mano ma i dati alla mano e quando pubblicheranno delle statistiche istat dirà la situazione attuale non vedrete che non è una cosa normale purtroppo lo dico purtroppo quindi da persone intelligenti c'è da ammettere che c'è qualcosa di anomalo c'è da ammettere che una commissione di inchiesta potrebbe essere l'unica soluzione a per capire cosa stia succedendo realmente b per capire ci sono delle colpe per quella cosa che è stato fatto voi capite cosa e seconda cosa se c'è un modo per per prevenire a questo punto questi malori improvvisi se c'è qualche cura da fare se c'è qualcosa di medicamente e a livello medico possibile da fare per dare per fermare questi malori improvvisi perché sta capitando a tutti amici sta capitando a tutti quindi nessuno è sollevato dal rischio purtroppo nessuno è sollevato dal rischio perché intorno a noi lo vediamo poi mettetelo voi nei commenti se anche voi vedete questa cosa nelle vostre città io tutti i giorni lo sento a di là che in redazione ci arrivano migliaia di segnalazioni tutti i mesi ma veramente tante veramente tante la cosa però ormai è su tutti i giornali ed è palese tutti i quotidiani e con un minimo di onestà intellettuale stanno pubblicando le notizie e parlando di questa nuova patologia i malori improvvisi perché ormai non è più una cosa casuale vabbè ciao a tutti ciao a tutti scusate se vi do queste notizie ma è giusto darle è giusto darle e chi dice ma c'è robbi giusti quello che parla dei malori non parlo solo dei malori ma parlo di tante altre cose di tante altre cose b ne parlo perché è una cosa anormale e quando arriveremo ad averne migliaia e migliaia spero di no spero che quel professor francese che non c'è più non avesse ragione avesse la ragione proprio distante da quello che ha detto fosse la ragione distante da quello che lui ha detto in quelli di Milano e dopo forse direte cazzo robbi giusti però aveva ragione non voglio la ragione io sto semplicemente facendo vedere quello che succede e so che dà fastidio io capisco quelli che magari chiudono il video cambiano canale dicono non voglio guardarlo vi capisco e è dura accettare accettare una situazione del genere è dura accettarla però purtroppo è la situazione questa ed è inutile negarla buona domenica a tutti condoglianza da chi lo chetto alle famiglie del colonnello alle famiglie del ragazzo Enrico e alla condoglianza anche ai genitori di Matteo tutte queste persone questi ragazzi anche giovani queste persone note che sono morti in queste 48 ore veramente e sono solo quelle che ho deciso che ho scelto tra le tante notizie che mi sono arrivate se dovessi leggerle tutti dovrei passare la mia giornata dalla mattina alle 8 fino a mezzanotte a leggere notizie di gente che sta morrendo per malori improvvisi ma evitiamo evitiamo quello vi do ragione evitiamo perché tanto è inutile c'è palese a tutti ciao a tutti buona domenica